Benvenuti ragazzi, qui Ben Graffi siamo qui con questo nuovo video Oggi faremo un video molto particolare, sarà una compilation di auguri Di auguri che ho fatto il giorno di Natale a degli altri youtuber, diciamo ai più intimi E ho fatto degli auguri un po' particolari, ovvero ho scaricato un'applicazione Che molti di voi conosceranno, è solito usata per fare le Dialect Challenge E ho fatto gli auguri alle persone a seconda della loro regione di provenienza Quindi boh, volevo fare una roba stupida così per Natale E quindi metterò un po' la compilation di tutti gli auguri che ho fatto Uè Testiena, ho deciso di farti gli auguri nella tua lingua, col tuo accento di merda figa Allora il mio regalo di Natale sarà la tecnica per rimorchiare le donne solo per te Vai da una ragazza e digli Quando la teta la spunta, anche la pota l'è pronta Buon Natale, testina Praticamente la sua reazione è stata più o meno quella che vedete in sovrimpressione Sembro uno che sta facendo pubblicità Comunque, è una cosa, è una frase inutile, stupida Però vedrai che ti servirà in questo 2016 Ad avere tanta pota, come dite voi, nella vostra lingua Per questo anno Il secondo l'ho fatto a Jumbo Jumbo che, ah non avevo detto Brat è di Bergamo se non sbaglio Quindi ho ovviamente preso il Lombardo Jumbo se non sbaglio dovrebbe essere di Bologna Quindi io ho fatto sostanzialmente il Romagnolo E questo è quello che sono riuscito a tirar fuori Ho deciso di farti gli auguri nel tuo dialetto Valà Allora sai che ti dico? Ma che diutù, ma ve fighe Valà, auguri, tortellini Sostanzialmente sembravo il topo che fa pubblicità del parmareggio Però comunque era veramente brutta questo auguro Veramente, veramente brutto Comunque, un saluto a Jumbo Chiaramente scusatemi a tutti quelli che sono di queste regioni Di cui ho fatto un'improvvisata Perché non vuole essere un'offesa assolutamente Perché voleva solo essere una cosa simpatica Diciamo, vaffan come pure caduto Il terzo ragazzi l'ho fatto a Dax Dax che lui è di Trento se non sbaglio Il problema è che su questa applicazione non c'era il Trentino Allora ho detto Proviamo a farglielo Visto che non ho idea assolutamente di come sia il Trentino Proviamo a farglielo in Veneto Che diciamo era la regione più vicina che ci fosse Con i dialetti Quindi io l'ho fatto in Veneto Oltreghetta non c'era il dialetto trentino Quindi te lo dico in Veneto Ti ricorda sempre Guanto figa baretta Non gada essere maestretta Buon Natale Ragazzi Ragazzi questo è uno dei detti più belli che esistono Secondo me Cioè i Veneti sono i numeri uno Veramente raga Da questo video i Veneti sono i numeri uno Se siete Veneti e mi seguite Cazzo scrivetelo nei commenti Ragazzi perché Un dialetto che dice che il guanto, la figa e la berretta Non devono mai essere strette È un dialetto che ha vinto Obiettivamente Ha vinto Tutto Il prossimo l'ho fatto a Monorit Che mi hanno detto che è di Reggio Calabria Quindi Mi sono trasformato improvvisamente in Franco Neri E quindi questo è il risultato Diciamo Un po' pessimo ma Questo è il risultato Sentiamolo insieme E tra l'altro La sua risposta è stata Futtit e futtatin È epocale Buon Natale E poi Io gli ho detto appunto Come vedete nello screen Che avrei fatto un video E la sua risposta ragazzi È stata fantastica È stata questa Che cane che sei Ma queste idee da dove ti vengono? Cioè sei diventato Amicone di Greta Menchi Per caso Non so imitare il dialetto d'Orinese Fantastico Ho vissuto due anni E non ho idea di come parlino Quindi Buon Natale Monoritmo numero uno raga E quindi Visto che Tu mi hai detto che sono Preso l'idea da Greta Menchi Quindi È ora di cambiare la mia intro Passiamo a Flair Che saluto E lui Abita vicino a Roma Quindi ovviamente Il romano E dato che c'erano Un casino Di detti romani Fantastici Di una finezza E esemplare Ho deciso di Usare questo A voi Buon Natale Li mortacci tua È l'occasione di Giusta per dire La ragazza tua Sciacqua la sella Che stasera Se cavarca Buon Natale Cazzo Questa è proprio La frase Del Del romano Coatto Che Dice Mi piace La scopa Ah tra l'altro La cosa bella È che lui poi Mi ha risposto Su Whatsapp Mi ha risposto Su Whatsapp Scrivendomi Era qui Ha sentito E ha detto Ma che cazzo Quindi Fantastico Cioè Numero 1 Se riesco a farmi Le figure di merda Non sono con Gli Youtuber Ma anche con Le rispettive ragazze Fantastico Tocca ora Abbrambase E quindi Capirete tutto Hashtag Abbrambase Assolutamente Pizzet Sare ovviamente Di cosa sto parlando E li saluto ancora Siamo arrivati a Sisma Che è come me Di Torino E raga La cosa strana È che Il mio Piemontese Sarà tipo Il peggiore Tredelettico Fatto Per chi odio Il Piemontese Quindi Cioè Tipo È venuto malissimo Però Questo è quello Che è spuntato fuori Uè Giangduia Auguri di Buon Natale Dall'altra parte Della mole Mi raccomando Cos'è Figa Dio Cos'è Regale Cos'è E lui mi ha risposto E' uno Uno dei pochi Che mi ha risposto Di audio Sia nel Sismone Uè Piemontese No Non lo so parlare Piemontese Molto più Piemontese Di America E vabbè Comunque Buon Natale Ancate Piccolo Dopo avermi fatto Gli auguri Gli ho detto Che appunto Come vedete Nello screen L'avrei messo In un video E questa è stata La sua risposta Io sono senza parole Rapi davvero Ste cose Antisgamo Proprio Mamma mia Antisgamo Veramente Cioè Io Volevo fare Una specie Di trollata Ma poi Ho svelato Che avrei fatto Un video Quindi è Una trollata Mariuscita Della storia Proprio Per finire Regale L'ultimo E a Gio Che abitava Livigno Adesso Vi do anche Direttamente L'indirizzo Così è andato A rompere Il cazzo Gio Così magari Lo convincete A fare video E a tornare Finalmente Così può Spammarmi Di nuovo No A parte Gli scherzi Questa Lavoro E a Gio Ovviamente Anche Lì E L'invigno È uscito Più Meno Quello di Ratti Però Vabbè Buon Natale Che figa Che fai gioia E buon Natale Hashtag fai gioia Ah tra l'altro lui anche mi ha risposto Con un audio ed è questo Grazie rapi Comunque ho sangue terrone Non parlo milanese per fortuna Comunque Tu di tuo cazzo Ah o è figa son torinese Già lui è fia nel sangue E io allora ho detto Cazzo L'unico che non parla milanese Allora se è sangue terrone Glielo devo rifare Allora gli ho mandato un altro augurio ovviamente È sangue terrone? Non parlo così Cosa è la domanda te? Sembra così po' Lo zio terrone che Che fuma da una vita E quindi non ha più la voce Non ha più la voce per parlare E allora fa Spinge proprio le vocali Detto questo Spero che questo video ti sia piaciuto È un video un po' diverso dal solito Non so se vi è piaciuto Spero di sì È stata qualcosa Un po' tirata a caso Perché io ho pensato A questa cosa qua Ho detto Voglio fare un augurio particolare Ho detto Visto che nessuno Ha mai fatto una roba del genere Di auguri Nei dialetti Delle persone Ho detto Ho detto Facciamo qualcosa di originale Spero che venga qualcosa di carino Ho detto questo ragazzi Vi faccio gli auguri Perché questo è l'ultimo video Prima del 2016 Quindi che dirvi Buon capodanno ragazzi Fate i bravi Mi raccomando E ci vediamo Un prossimo video Probabilmente Lascerò un video pianificato Anche se io Fino a domenica Sarò via Quindi Non potrò rispondere A cose varie Però Magari avrete già Un video Magari venerdì Di nuovo Detto questo Ci vediamo al prossimo video Qua era la vi Bella